Allora la squadra noi erano 20, stavo solo col cronometro in mano, va lì giocato tutti. E' un allenatore per due squadre, lo sai? Fia pure lì, oh, fia pure lì. Il vestito di verde in sei coppi, sì, da. Così, ma mette la risa gialla, coglioni. Allora, cominciate a lasciare un percazzo, guarda, ragazzina come mi fia, eh. Non so che mi fia, guarda, questo è un ruolo, ragazzino. Oh, Daniel, una cosa? Hai visto dopo il cuore? Non sa la viste, non si può essere. Ma l'ha entrata! Oh, non è capitato con film. Eh già. Infatti io non riuscivo a riprendere più. Ho detto, esci un attimo. No, vieni, vieni. C'era pure che lui l'entrata. No, sta bene, hai visto? Io ho fatto la noccia, le ho fatto la noccia. Poi mi ricordo io, ho messo l'acqua. Non mi ricordo che lui è stato caldo. Eh, è caldo. E' 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 caldo. Ma io lo ho fatto la noccia. Enchè, non lo fa confondo, eh. Grazie a tutti. 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 Ugono. Buono. Sali, 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 sali. Sali, 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 sali. Sali, 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 sali. Sali, 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 sali. Sali, 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 sali. Grazie a tutti. 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 Buon... Grazie a tutti. Buon... Grazie a tutti. Buon... Salimo... Buon... Buon... Buon...